Gli agricoltori europei e il loro futuro sono sempre più al centro del dibattito comunitario, non senza polemiche. Pensando Elobel, allevatore di tournée in Belgio, ha circa 70 capre in una fattoria da 20 ettari, eredità di un'azienda a conduzione familiare impegnata nell'agricoltura biologica. E sembra aver anticipato una tendenza chiara nelle recenti politiche agricole dell'Unione Europea, quella di una maggiore attenzione agli ecosistemi e alla conservazione della natura. Nella sua azienda tutto parte dalla terra e dall'utilizzo del suolo. Nei suoi campi crescono colture diverse, dalle graminacee ai legumi, in una rotazione funzionale al ripristino degli ecosistemi. La varietà vegetale attira più insetti e le diverse radici di ogni pianta rafforzano il terreno contro i fenomeni climatici estremi. Anche il pascolo delle capre è praticato a rotazione per non esaurire le proprietà del terreno. Come molti dei suoi omologhi, Vincent segue da vicino le discussioni sulla legge sul ripristino della natura, il cui obiettivo è ottenere ecosistemi con determinati standard ambientali in almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'Unione. Le conseguenze si faranno sentire anche sul settore agricolo. Noi riservi è chiaramente l'idea di avere una separazione dei espaci con una produzione intensiva di una parte e altri espaci dove non ne puoi più ne fare più, o che sia solo dedicato alla conservazione della natura, alla preservazione. Noi, il nostro modello non è nessun'altro, è veramente l'integrazione nei ecosistemi agricoli, nourrici, avere una parte e delle funzioni, una partecipazione degli insecti, degli armi e della produzione alimentare e all'approvvisionamento saino e durabile della nostra alimentazione. Martedì 27 giugno la proposta legislativa sul ripristino della natura sarà discussa e votata nella Commissione Ambiente del Parlamento europeo. Il dibattito si annuncia serrato. I partiti di destra vogliono respingerla perché la reputano pericolosa per la produzione agricola e la sicurezza alimentare. Quelli di sinistra invece la sostengono in nome della transizione ecologica, per cui vanno però trovati modi, tempi e risorse adeguati, come chiede da tempo il settore agroalimentare.